Giustamente diceva il confronto tra l'amministrazione comunale e il consorzio di Bonifia, un confronto che a volte ha portato anche a toni altri, ma fa parte della dialettica, fra istituzioni e enti che hanno compiti importanti come quello di intervenire sulla manutenzione ordinaria dei fiumi e dei torrenti. In questo caso credo che il progetto che è stato redatto per l'intero Val d'Arno, ma in particolare per San Giovanni, credo sia un progetto importante di manutenzione ordinaria che credo abbia già dato i suoi frutti. Gli interventi sono stati fatti sul Borro della Madonna, sui torrenti San Cipriano e Bacchereccia, ora sull'Arno, sul Borro al Quercio e prossimamente anche sul Borro delle Ville, dimostrano l'attenzione che c'è per San Giovanni e per non solo la sicurezza idraulica, ma anche per il devono. Poi c'è il progetto su cui il Consorzio sta lavorando ormai da alcuni anni, che è l'intervento che verrà fatto tra Ponte Pazia e Ponte Pertini, che mette in sicurezza la sponda destra, la riva destra dell'Arno e riporterà al centro del letto del fiume il corso dell'acqua, facendo anche gli interventi sulle pille del Ponte Ipazia, che in questo momento sono in parte scoperte. È un intervento gravoso, su cui abbiamo già avuto dei confronti con la regione toscana, che ha già dimostrato attenzione a un intervento di questo genere. Ci confronteremo nuovamente nei prossimi mesi, perché ci possa essere questo finanziamento. È un finanziamento ospicuo, ma penso San Giovanni ne abbia bisogno, perché ormai sono diversi decenni che non si fa un intervento di questo genere e chi conosce la nostra città e le nostre lame dell'Arno sa bene che siamo in un momento in cui o facciamo questo intervento c'è avviso davvero che ci siano delle frane che possono pregiudicare anche la sicurezza dei cittadini e la fruibilità delle sponde sulla riva destra in particolare. Quindi noi siamo molto soddisfatti del lavoro che è stato fatto, perché erano molti anni che non veniva fatto un intervento di ripulitura ordinaria di questo genere, però siamo anche nell'ottica di lavorare perché quell'intervento di manutenzione straordinaria venga fatto in tempi anche naturalmente più rapidi possibile.